Sono Vittorio Sgarbi e sto cercando un'impresa di pulizie seria ed affidabile per poter pulire la mia nuova villa che ho preso vicino a Bologna. Andrea Roncato, cosa mi consigli? Ma perché non ti rivolgi ad Emilia Pulizie? C'è rivolta anche la zia di Gigi che ha fatto pulire tutta la pensione Celso di Rimini ed è stata contentissima. Oiii? L'impresa Emilia Pulizie opera in Emilia Romagna e specializzata in pulizie di aziende e condomini. Emilia Pulizie, l'impresa di fiducia. Allora Vittorio, come ti sei trovato con l'Emilia Pulizie? È accelsa, come la Divina Commedia, non come certi altri che lavorano come capre, 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 capre!